Un'orchestra di bambini e di ragazzi per lottare contro il rischio di esclusione sociale. Il sogno e la profonda convinzione che la musica e la cultura possano diventare patrimonio di tutti, si realizza anche a Lucca. È questo l'ambizioso obiettivo del progetto per la creazione di un laboratorio musicale e orchestrale di bambini e di ragazzi, secondo il metodo Abreu, che si avverà nel prossimo gennaio nel territorio lucchese. L'iniziativa, promossa e capitanata dall'Associazione Tempo di Musica e dall'Istituto Musicale Giocesano Baralli, ha raccolto ampi consensi e trovato un pattenerariato ampio. Il laboratorio musicale prenderà vita in gennaio e prevederà il coinvolgimento dei quartieri del Centro Storico di San Vito, Sant'Anne e San Concordio Pontetetto. I bambini coinvolti saranno circa 50, di cui 30 provenienti da famiglie in situazioni di disagio economico, attraverso le indicazioni dei centri di ascolto Caritas e dei servizi sociali del Comune. A tutti loro verrà affidato e incomodato d'uso gratuito uno strumento musicale e tutti saranno avviati all'apprendimento della musica in piccoli gruppi di fiati, archi e percussioni. Le lezioni saranno gratuite per i bambini provenienti da contesti complessi e richiederanno un minimo contributo per gli altri. A Lucca l'esperienza partirà sotto il coordinamento didattico del maestro Tommaso Valenti, già coinvolto in un analogo progetto alla Spezia.